Seconda parte di settimana più movimentata sull'Italia a causa di due perturbazioni. La prima non è altro che un veloce fronte freddo ormai imminente che nella giornata di giovedì scivolerà lungo le adriatiche portando delle piogge di rovesci sparsi per appunto su regioni adriatiche e al sud, vedete con neve sull'appennino a tratti anche fin sotto gli 800 millimetri. Tempo invece in miglioramento altrove con sole prevalente, questo sarà infatti il preludio ad un venerdì assolato ma attenzione che nel weekend arriva una seconda perturbazione che soprattutto nella giornata di domenica dovrebbe portare delle piogge di rovesci in primis al nord e lungo le regioni tirreniche con anche della neve sulle Alpi sempre alle quote medie. Tuttavia il fronte in questione è ancora incerto nella sua traiettoria quindi non escludiamo ulteriori modifiche previsionali che appunto potranno esserci nei prossimi aggiornamenti aggiornamenti che vi ricordo potete seguire non solo sul trabimetro.com ma scaricando anche la nostra app gratuita per tablet e smartphone.